Il vero mercatino da Forte dei Marmi torna a Legnano, questa volta in Via 29 Maggio. Domenica 19 novembre, dalle 7 alle 20, vi aspetta in Via 29 Maggio, con un pieno di qualità, moda, eleganza e simpatia, per regalarvi una splendida giornata di shopping marchiato Forte dei Marmi. Per i piccoli, animazione e battesimo della sella sui poni. Domenica 19 novembre, a Legnano, il mercatino da Forte dei Marmi.